Ciao amici e benvenuti da DJI Mr. Quindy, un multimetro digitale rivelatore di tensione. Prendete questo video come dimostrativo. Allora, eccolo qui, come detto, prendete questo video come dimostrativo perché non rientra, la tecnologia di questo dispositivo non rientra nel mio target, anche se qualcosa telefonicamente ho chiesto a persone che ne sanno, più che altro per sapere il prezzo di vendita di questi dispositivi. All'interno della confezione di questo cartoncino troviamo il tester, i due morsetti, i cavetti per misurare, un manuale, o meglio, più manuali di istruzioni, ma c'è anche in lingua italiana, molto ben dettagliato, lo faccio vedere, abbastanza spesso saranno 12-13 pagine che ci danno veramente tutte le indicazioni e poi due coupon di ringraziamenti dalla EdTech City che ci ha inviato questo sample. Vediamolo nella parte dei materiali, io questo mi limito a farvi vedere e poi chiaramente giudicate voi. Mi sembra molto ben costruito anche le plastiche, questa appoggio, base d'appoggio sulla parte posteriore, ho sempre qualche difficoltà ad aprire questi sportellini, vediamo se ci riesco con, eccolo qui, ci dà questa possibilità di tenerlo leggermente rialzato quando andiamo a fare la misurazione. Per collegarlo ci sono due tappini di protezione, li mettiamo in questo modo, vanno inseriti, poi vi faccio vedere anche la possibilità, li tolgo così vi faccio leggere quale possibilità c'è, ci sono ulteriori possibilità di andare a inserire chi del mestiere sa cosa si può fare, quante cose si possono fare con questo dispositivo. Qui c'è la parte per accendere, lo accendo subito, lo vedete, il retroilluminato, bella anche l'illuminazione, buoni angoli di visione, quindi è sempre ben percettibile la numerazione, qui la possibilità di spegnere la retroilluminazione oppure di tenerla accesa. Qui un ulteriore tasto che ci permette di andare a regolare la parte del menu. Diverse le funzioni, buona, come dicevo, percepisco anche nel girare questa levetta che la qualità costruttiva sembra abbastanza buona a livello di plastiche. Per quanto riguarda il prezzo, io ho chiesto telefonicamente a un elettricista, un mio amico elettricista, quanto costa un prodotto del genere. Mi ha detto che questi tester così definiti, ho inviato la foto a lui, quindi ho avuto modo di vedere di quale prodotto parlevamo, si aggira intorno ai 40-50 euro. Quindi in questo momento è altamente consigliato. Io vi ringrazio di avermi seguito questo video, prendetelo come dimostrativo, così vi date un'idea quando non arrivo dove capisco che rientra nel mio target e vi faccio questi video dimostrativi più che altro a riportarvi la qualità che percepisco dei materiali e poi a farvi vedere il prodotto. Io spero di esservi stato utile, vi ringrazio di avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima recensione.